buonasera a tutti i ragazzi bentornati sul canale dopo questa pausa dovuta alle feste natalizie anzi io mi auguro che tutti voi abbiate passato delle buone feste nonostante questa situazione covid che ha un po' frenato tutto soprattutto per quanto riguarda la fase capodanno più che la fase natale e comunque parliamo di calcio, parliamo di Juventus, women che hanno battuto il sassuolo allo stadio Benito Stirpe di Frosinone ai calci di rigore inizio a dirvi che anche questa volta come era successo nella partita Juventus cioè Salernitana Juventus a Salerno ero allo stadio quindi un giudizio preciso o comunque senza sparare cazzate dovrei darvelo dopo per rivista la partita cosa che non ho fatto anzi il video sta uscendo già in ritardo perché c'è avuto un'oretta per tornare a casa a tempo di mangiare e mi sono messo a registrare comunque lasciando perdere queste situazioni personali ero allo stadio è stato abbastanza emozionante vedere le ragazze che giocavano in uno stadio più grande non mi era mai capitato, mi era successo di vederle a Roma in uno stadio che potevo ospitare 2-3 mila persone non di più e vederle giocare in uno stadio grande comunque ha provocato delle emozioni se riesco con la magia del montaggio nonostante le mie scarsissime skills proverò a mettervi qualche video in sovraimpressione non prometto niente ed è una cosa che si vedrà dopo nella fase di montaggio quindi non posso assicurarvi niente comunque la Juventus batte il Sassuolo ai calci di rigore dopo una partita un po' così il Sassuolo ci ha messo molto in difficoltà, era già successo in campionato, ne avevamo parlato nel video post partita però oggi ho avuto l'impressione che fosse una partita sporca per la Juve e che effettivamente non meritasse così tanto il risultato non che poi abbia vinto, ha vinto i rigori, sono sempre una lotteria però mi è sembrato che abbia giocato molto meglio il Sassuolo soprattutto nel primo tempo dove la Juve inizia bene e segna il primo gol anche abbastanza fortuito abbastanza fortunoso e casuale perché dopo due o tre rimbalzi Nilden la butta in porta tra l'altro io non avevo manco capito che aveva segnato Nilden, pensavo avesse segnato Rosucci infatti ero tutto gasato e aveva segnato pure a Roma, ho detto allora porto fortuna, quando vengo io segna sempre invece non è così. Comunque tralasciando queste altre situazioni personali il primo tempo l'ho visto abbastanza sofferto perché dopo il gol la Juve prende subito a freddo il gol del pareggio da parte del Sassuolo e poi non riesce a reagire un po' meglio nel secondo tempo però comunque tutto sommato non mi è sembrato una partita pulita giocata bene da parte della Juve in cui ha meritato di vincere come di solito fa ci può stare assolutamente, non siamo qui a recriminare nulla a queste ragazze che continuano a regalare grandissime soddisfazioni però era giusto un pensiero sulla partita e che altro? Tornata Saragama un ottimo ritorno applaudita dallo stadio ed effettivamente in un momento in cui la Juve ha davvero bisogno perché oggi abbiamo giocato con Pedersen, difensore centrale insieme a Lenzini quindi siamo un po' a corto in quel reparto dopo il brutto infortunio l'operazione che ne è conseguita da parte di Cecilia Salvai purtroppo ovviamente le auguriamo tutto il meglio e non c'è neanche da discuterne sperando che torni presto perché comunque è una calciatrice fondamentale per questa squadra credo che la società possa intervenire effettivamente sul mercato dopo aver comprato Giulia Grosso magari può intervenire anche per quanto riguarda il reparto difensivo e comprare un altro difensore centrale quindi rigori tra l'altro stavo riprendendo i rigori ho fatto il primo video bottina sbagliato ho detto bene ho fatto il video al primo rigore del sassuolo Pepem la para con una mano poi la palla finisce di nuovo in porto ho detto ma non è che so io che porto male facendo questi video infatti poi ho smesso e li abbiamo segnati tutti ovviamente non farò mai più video a calci di rigore e punizioni e angoli nelle partite che andrò a vedere allo stadio e niente questo è tutto ci tengo a ringraziare particolarmente Cristiana Girelli che a fine partita è venuta sotto la curva di alcuni tifosi gli hanno chiesto la maglia e lei purtroppo non ha potuto darla perché forse è l'unica che le forniscono e un tifoso si è fatto dare la maglietta termica che aveva sotto noi siamo stati fortunati ero con il mio fratellino più piccolo mi abbiamo chiesto se poteva firmarci una palla della Juve che gli ho regalato ed effettivamente Cristiana ci ha esaudito questo nostro desiderio con scritto a Leonardo che è il mio fratellino più piccolo però ovviamente a Leonardo ma tra tante virgolette perché questo pallone Leonardo lo vedrà per poco tempo e vabbè scherzi a parte la Juve in finale finale che si giocherà a sabato alle due e mezza di nuovo al Benito Stierp e Saro di nuovo allo stadio perché vicino a casa che fai non ne approfitti non ne approfitti e quindi niente questo era tutto per quanto riguarda il post partita di Juventus a suolo e vi ricordo tutti come al solito di lasciare un mi piace un commento di seguirmi su Instagram e di iscrivervi al canale soprattutto per rimanere aggiornati su tutti i post partita della Juventus maschile e anche delle Juventus women questo era tutto buona serata ragazzi vi auguro un buon proseguimento ci sentiamo domani con il post partita di Juventus Napoli maschile con la speranza che si giochi che anche là ci sarebbe da aprire un libro considerando che già l'anno scorso sono stati fatti ma che gi vorrei dire ma non posso farlo quindi sono state adottate politiche strane per quanto riguarda il giocare la partita o rinviarla a causa Covid non mi esprimo per cose successe l'anno scorso posso esprimermi su cose che potrebbero succedere quest'anno già che hanno rinviato 2-3 partite anzi anche di più 4 forse della serie A per colpa delle ASL chi parte, chi non parte, chi gioca, chi non gioca mi sembra una situazione gestita abbastanza con i piedi ma non è questo il video dato per parlarne buona serata a tutti ragazzi io vi saluto di nuovo perché mi sto perdendo in chiacchiere questa volta definitivamente vi ricordo fino alla fine Forza Juventus Women